Proroga per tutti, anzi no, il gruppo politico di minoranza Cambiamo Gioiosa ha diffuso in queste ultime ore un comunicato con il quale sostiene che nella delibera di giunta numero 214 del 31 dicembre 2018 l'amministrazione comunale ha prolungato i contratti a tempo determinato e part time dei lavoratori ex LSU e delle più escludendo dall'elenco un lavoratore. Il solo lavoratore escluso da questa proroga si legge nel comunicato diffuso dal gruppo politico di opposizione Cambiamo Gioiosa e Giuseppe Malvisto che di fatto è stato privato della sua attività lavorativa che costituiva l'unica fonte di sostentamento del suo nucleo familiare. Nel corso della scorsa campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale continua la nota della minoranza consigliare Malvisto non aveva fatto mistero del suo sostegno alla lista civica Cambiamo Gioiosa, legittimamente convinto che ciò non avrebbe inciso sui suoi diritti di lavoratore. I fatti probabilmente dimostrano che se sbagliava alla prima occasione utile la ritorsione non si è fatta attendere ed il povero Malvisto si è trovato unico tra i 27 senza lavoro attraverso una scelta dell'aggiunta comunale resta pubblica solo il 31 dicembre scorso. Non sappiamo meglio, non abbiamo certezza, si legge ancora nella lotta di Cambiamo Gioiosa, che la mancata proroga sia da debitare a ragioni di natura elettorale e sinceramente ci auguriamo così non sia. Ad ogni buon conto affermiamo con forza il nostro sostegno e la nostra solidarietà a Giuseppe Malvisto e alla sua famiglia nella convenzione che il diritto al lavoro per la funzione sociale che riveste prescinda da vicende di altra natura e da interessi di parte. Invitiamo, conclude il comunicato di Cambiamo Gioiosa, pertanto il sindaco Salvatore Fuda e l'aggiunta è composta da Luca e Lidia Ritorto, da Giulio Pavandrea e da Loredana Carabro, che all'unanimità ha deciso di lasciare senza lavoro un onesto padre di famiglia, privando nel contempo il comune di Gioiosa di una unità lavorativa a voler rivedere la delibera in oggetto consentendo anche a Giuseppe Malvisto e ai suoi familiari di recuperare la serenità perduta. Il sindaco della città di Gioiosa, Salvatore Fuda, però respinge le insinuazioni, quelle della minoranza, dice il primo cittadino di Gioiosa, sono affermazioni non veritiere e noi difendiamo principalmente la dignità del lavoro. E dice che noi abbiamo proceduto alla contrattualizzazione in linea con la delibera di settembre delle fabbisogno del personale. In sintesi, abbiamo ritenuto che il lavoratore precario non è funzionale all'organizzazione dell'ente, per cui abbiamo comunicato alla Regione Calabria di prendere in carico il lavoratore LPU. In sintesi, abbiamo ritenuto che il lavoratore del personale dell'ente, per cui abbiamo ritenuto un'ente, per cui abbiamo ritenuto un'ente, per cui abbiamo ritenuto un'ente.